Musica Attenzione alla destra della corsa Metri di gloria per la coppia della breganza e millennium Si contentano la maglia tricolore La numero 69 Sofia Bichini alla 70 Sofia Berticolo Eccole l'applauso del pubblico per questa coppia Taglia il tramicato Berticolo Tricolore Berticolo Tricolore Berticolo Campionese d'Italia Si classifica al terzo posto La concorrente con numero 82 Siete della società ciclistica, Alfredo Vinta, Varese, Stefano Ferraglio, delegato Corri della provincia di Varese. Signore e signori, attenzione. Sofia Bertizzolo, campionessa italiana, una maglia che il proseguo della stagione ti peserà molto? Sì, è sicuramente una bellissima maglia, però se posso correggere non è la mia vittoria, questa è la vittoria di tutta una squadra, perché fin dai giri nel circuito più piccolo la squadra è stata molto attiva nel controllo di fughe varie, poi è uscita una fuga con la campionessa italiana in ciclocross, pensavamo che andasse all'arrivo, invece poi ci hanno ripreso. E sull'ultima salita io e Sofia siamo riusciti a fare la differenza, poi il finale è andato come è andato, però io sono contentissima, perché la maglia non è solo mia di tutta la squadra, io voglio dedicarla a loro, perché senza di loro... Io e Sofia abbiamo culminato proprio un lavoro perfetto di una squadra che è legata, sta andando bene dall'inizio dell'anno e speriamo che continui così. E da adesso cosa ti aspetta? Adesso diciamo che con questa maglia ho chiuso un po' la prima parte della stagione, che è stata un po' sfortunata, perché anche gli italiani al crono hanno fatto seconda, adesso speriamo si apra una nuova parte della stagione con nuovi obiettivi, magari anche in maglia azzurra si spera e vedremo come va. Bene, in bocca al lupo e complimenti.